Salve a tutti da Mario Santagati e dai video problemi di Chesslogger. In questo video problema muove il bianco e vince. La posizione è tratta da una partita che si disputò a Breslau nel 1865 tra Johannes Zuckerthort e Adolf Andersen. Adesso vi lascio alla vostra risoluzione del problema e vi saluto al prossimo video problema di Chesslogger. Ciao e grazie. Grazie a tutti.